Giovanni Morelli e i falsi rinascimentali. Questa relazione si muove intorno a tre brevi capitoli, il primo intitolato I primi due casi, un falso e una copia, il secondo firme, cartellini e iscrizioni e il terzo copie falsi e originali. Tutto prende avvio dall'esperienza personale che Morelli elabora intorno a due dipinti rispettivamente un falso e una copia antica che il grande conoscitore acquista per sé all'inizio della sua carriera di storico dell'arte. Come vedremo sono opere particolarmente significative perché Morelli le conserverà, in particolare una verrà conservata dal conoscitore fino alla fine della sua vita. I primi due quadri posseduti da Giovanni Morelli, come dicevamo, risulteranno rispettivamente un falso, quello di sinistra, e una copia antica. La vicenda è piuttosto indicativa perché ci mostra l'atteggiamento del conoscitore di fronte a un incidente di percorso che lo coinvolge in prima persona nelle vesti di collezionista. Entrambe le opere sono state acquistate precocemente, intorno al 1856, più o meno nello stesso giro d'anni in cui il medico di formazione stava maturando l'idea di occuparsi di storia dell'arte. Il falso, quello sulla sinistra, è un ritratto di donna di profilo eseguito da Angelo Tricca e spacciato per Leonardo da Vinci. La copia, quella sulla destra, una derivazione in miniatura della pala martinengo di Lorenzo Lotto, presumibilmente eseguita da Giovanni Paolo Cavagna nell'ultimo quarto del Cinquecento. Qui vedete le proporzioni dei due dipinti, la pala martinengo che è questa grande macchina ad altare alta più di cinque metri e la piccola tavola che acquista per sé Giovanni Morelli credendo che fosse appunto un bozzetto preparatorio per la grande impresa pubblica eseguita tra il 1513 e il 1516 da Lorenzo Lotto per la chiesa dei Santi Stefano e Domenico a Bergamo. Mentre la derivazione di Lotto, la copia da Lotto, a un certo punto sarebbe stata immessa nel mercato antiquario dello stesso Morelli, il Leonardo falso avrebbe accompagnato il conoscitore fino alla fine dei suoi giorni, consapevole che fosse falso. Secondo la testimonianza dell'allievo Jean-Paul Richter, il dipinto era collocato nella camera da letto di Morelli, la stanza più spaziosa dell'appartamento in via Pontaccio 14 a Milano. La cosa insolita è che fosse l'unico dipinto appeso alle pareti, comodamente visibile dal suo letto. Se consideriamo che tutti gli altri ambienti erano gremiti di opere d'arte, la faccenda suona piuttosto strana. Voleva averlo sempre presente per rammentarsi l'errore commesso? Anche Bernard Berenson, il più noto dei suoi allievi è cascato in una trappola simile. Quando aveva comprato per sé una tavola in stile senese del XV secolo, quella che state vedendo, eseguita dal falsario Iciglio Federico Ioni, la cosa piuttosto incredibile è che risulti anch'essa la pittura, la prima pittura da lui acquistata. Lo ricorda Nicchi Mariano nel presentare il volume sulla collezione Berenson nel 1962. A entrambi, cioè a Berenson e a Morelli, non è toccata la fortuna dei principianti, piuttosto hanno preso la classica cantonata degli inesperti. Alla morte di Morelli il falso Leonardo sarebbe passato tramite legato all'amica Laura Minghetti, moglie del ministro Minghetti, e da lei venduto, grazie a Berenson, al milionario americano Theodore Davis. Quest'ultimo ha lasciato la propria collezione al Metropolitan Museum di New York nel 1915, ad esclusione del falso, ormai smascherato come tale, ereditato dalla sua segretaria. Per Morelli le firme, i cartellini e le iscrizioni avevano un valore secondario. Era convinto che l'unico banco di prova per stabilire l'autenticità delle opere d'arte stesse nei confini fisici delle opere medesime. Fonti e documenti scritti hanno un valore secondario, appunto, così come eventuali firme, cartellini e iscrizioni poste sui quadri, che vanno osservate con una dose di preventivo sospetto e comunque senza mai sostituirsi alla verifica del metodo sperimentale. Nel dialogo immaginario tra il tartaro Ivan Lermolieff, fittizio autore del libro e l'attempato colto italiano, altra maschera dell'autore, inserito nel concetto fondamentale metodo che è il capitolo introduttivo al volume sulle gallerie Doria Panfili e Borghese a Roma, Morelli sostiene questa tesi generale che, diciamo, evolve in forma di dialogo. Come esclamai attonito, ella vorrebbe mettere in dubbio sino il valore del documento scritto tanto valutato da tutti gli storici dell'arte, qui è Lermolieff che parla, risponde l'attempato colto italiano. Per il conoscitore l'unico vero documento, rispose egli tranquillamente, in ultima analisi, sta nell'opera stessa. Questa sentenza apparisce certamente audace, anzi arrogante, ma in realtà non lo è. Come cercherò di dimostrarle con molteplici esempi. E infatti dove vuol trovare un documento più degno di fede che più salti agli occhi di quel che sia il nome del maestro scritto sull'opera stessa, documento che in Italia soliamo chiamare cartellino? A feio, dissi, parla Lermolieff. Se tutti i quadri fossero muniti di iscrizioni, non vi sarebbe davvero gran merito nell'essere conoscitore, risponde l'italiano. Anche qui non posso consentire. Come nel buon tempo antico, quando erano in voga i passaporti, erano appunto i più scaltri mariuoli che sapevano procurarsi le più regolari e irreprensibili carte, e con questi documenti scritti ingannare gli agenti di polizia. Così furono e sono sempre gli storici dell'arte e i direttori delle gallerie menati pel naso dai documenti scritti e dai cartellini. L'accenno agli scaltri mariuoli va letto come un consapevole riferimento al mondo dei falsari. Morelli presenta diversi episodi di falsificazioni del genere, a partire dal monogramma di Albrecht Dürer, inciso fraudolentemente sulla pietà di Giovanni Bellini al Museo Correr di Venezia, che è l'immagine che state vedendo ora. Dice appunto Morelli, questa volta nel volume dedicato alle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, o meglio, dice Lermoliev, è vero che vi è stato un tale il quale ha messo sulla bella pietà nel Museo Correr il monogramma del Dürer e la data 1499. Evidentemente con la persuasione di poter vendere meglio il quadro, ma è pur vero che solo da un osservatore superficiale quel monogramma può essere creduto autentico, così come furono creduti e come si credono tuttora vere altre iscrizioni false apposte ad altri quadri. Ora, ci sia lecito di domandare a tutti i critici seri, i quali hanno veduto il quadro nel Museo Correr, se sono d'accordo con i signori Crow e Cavalcaselle, che quel quadro, cioè, abbia un carattere transalpino, come sarebbe quello di un Dürer della scuola di Colonia o dei Paesi Bassi, oppure se non ravvisino piuttosto con noi, in quella pietà, la impronta di un grande artista veneto. Ci rincresce davvero che i signori Crow e Cavalcaselle non si siano accorti di essere davanti a un'opera splendida e profondamente sentita di Giambellino e ci spiace non solo per loro, ma ancora e più per le conseguenze che così fatto Svarione dovrà produrre nei loro lettori. La History of Painting in North Italy di Joseph Archer Crow e Giovan Battista Cavalcaselle è il principale bersaglio polemico di Morelli, come abbiamo sentito anche dai toni, diciamo, del testo. I due gemelli siamesi, come li chiamava scherzosamente Morelli, hanno commesso l'errore non tanto di considerare autentico il monogramma, che di fatti ritenevano falso, attenzione, ma di essere approdati a un'attribuzione sbagliata in favore di Pier Maria Pennacchi sulla base del confronto con l'opera firmata del Museo di Berlino, che vedete a destra, che è andata distrutta durante il secondo conflitto mondiale. Quello che Morelli suggeriva surrettiziamente è che i due conoscitori si sarebbero fatti influenzare, attenzione, dalla presenza della marca apocrifa valorizzando le caratteristiche transalpine di Pennacchi. Qui, diciamo, è un po' un uso strumentale di Morelli, devo dire. In verità, il testo incriminato sottintende che in passato la scritta non era stata ritenuta falsa proprio in virtù dell'aspetto tedeschizzante dello stile del pittore. Secondo Morelli le firme sono ambigue per natura. Ovviamente questo atteggiamento poteva risultare pericolosamente rischioso. Di fronte alla Madonna con il bambino in trono e santi che state vedendo dalla collezione Borromeo, firmata da Bernardino Butinone, il conoscitore è categorico. Cito, esso porta in lettere d'oro l'iscrizione Bernardinus Bettinonus de Treviglio. A mio avviso quel quadretto non ha niente a che fare con le opere autentiche del Buttinone e dello Zenale a Treviglio e in San Pietro in Gessate, ma corrisponde invece tanto nel tipo delle figure quanto anche nella maniera tecnica alle opere di Gregorio Schiavone di Dalmazia, stanziato a Padova. L'iscrizione è evidentemente una contraffazione. Scusate il gioco di parole, ma Morelli si era fatto una falsa idea di Butinone. La cosa che più colpisce è l'indifferenza di fronte alla qualità tecnica della firma, eseguita a lettere d'oro sul piedestallo del trono, lo stesso oro che brulica nelle decorazioni dei capitelli, nelle trabeazioni figurate e nei clipei coi profili di Cesari. Molto diversa dalla falsificazione grossolana che abbiamo visto nel Bellini precedente. Per giustificare l'errore bisogna considerare che fino a quel momento non si conoscevano opere così dichiaratamente filopadovane di Butinone e per Morelli risultava quindi più corretto classificarla sotto il nome di Schiavone. Ogni attribuzione è risultato delle conoscenze del tempo. La storia della connessorship va avanti tramite una somma di intuizioni individuali processate e accolte in un sistema organico di informazioni, sempre pronto a rimodellarsi sulla costruzione di singole personalità, flussi di influenze tra maestri e scuole pittoriche eccetera. Anche l'esempio riguardante Antonello da Messina va nella stessa direzione. Il procedimento classificatorio di Morelli lo ha spinto a organizzare i dati in gruppi e sequenze uniformi. Nel caso del pittore siciliano è giunto a sostenere che le sue firme sono sempre inserite in cartellini dipinti e aveva ragione. A partire da questa convinzione considera tutti i casi di formi apocrifi a priori. Vediamo cosa dice a proposito del dipinto che vediamo a sinistra e a destra rispettivamente uno a Berlino e l'altro a Berga. Cito il quadro di San Sebastiano porta l'iscrizione Antonellus Mesaneus. Questo quadro è troppo fiacco nel disegno ed è dipinto troppo rozzamente per poterlo credere di Antonello stesso. Del resto Antonello metteva sempre il suo nome sopra un cartellino e scriveva Messaneus con due S. Perciò credo che tanto questo San Sebastiano come anche quell'altro simile a questo che è nella galleria comunale di Bergamo debbano essere lavori della bottega di Antonello e l'iscrizione sia stata evidentemente apposta al quadro dopo la morte di Antonello. Ancora non era stata messa a fuoco la figura di Antonello de Saliba, il nipote del grande siciliano che per motivi commerciali si firmava come lui, attenzione tralasciando appositamente il patronimico, replicando alla lettera invenzioni di successo di Antonello da Messina. Certo Morelli non poteva neanche lontanamente immaginare che la firma potesse essere usata con fini così subdoli e qui vedete i due confronti tra due invenzioni di Antonello che sono quelle diciamo riprodotte in scala più grande, quindi la pietà del Museo Correr di Venezia, replicata con varianti da Antonello de Saliba che si firma appunto come diceva Morelli Antonellus Messaneus e anche la copia, senza varianti questa volta, della celebre vergine annunciata dipinta appunto da Antonello da Messina. Come abbiamo detto Morelli è naturalmente incline alla classificazione dei dati, il suo merito è quello di aver messo in discussione molte certezze acquisite, il limite quello di averne create in alternativa di poco flessibili. Lo studio delle firme di Giovanni Bellini è in questo senso esemplare, il conoscitore è consapevole che è lo stile l'unico marcatore a determinare l'autografia dell'opera, perciò dubita che tutte quelle che recano il suo nome gli possano essere riferite con sicurezza. Con questo giusto presupposto ho provato a mettere ordine a una materia estremamente complessa, cioè quella della bottega di Giovanni Bellini, introdotta in questo caso dal solito dialogo tra Lermoliev e la sua guida. Cito, io le potrei citare signor mio a dozzine tali falsi cartellini di vecchia e di nuova data che si trovano su quadri di famosi gallerie, bastino i seguenti a convincerla dell'esattezza della mia affermazione. Ella trova nella Galleria Doria a Roma, foto a sinistra, nell'Uvra Parigi, foto a destra, quadri di Nicolò Rondinelli da Ravenna che per la falsa iscrizione vanno sotto il nome di Giambellino e come suoi anche dagli storici dell'arte sono descritti e decantati. Ora, questi sono due casi che ovviamente dove la teoria di Morelli è perfettamente esatta, cioè mai fidarsi della firma ma verificare lo stile, dopodiché diciamo il discorso Bellini e Rondinelli, per il momento lasciamolo tra parentesi. Quando Morelli non ambisce a stabilire una rigida legge generale, partendo da acute osservazioni particolari, il suo spirito critico lo conduce nella direzione giusta, come nel caso della vetrata di San Giovanni in Monte a Bologna. Cito un altro esempio per provarle qual valore possono avere tali documenti agli occhi di coloro cui la lingua dell'arte ignota me lo fornisce la grande vetrata della chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Questo grandioso quadro sul quale è rappresentato Giovanni Evangelista porta la segnatura C.A.F. Ora, qualunque amico dell'arte cui sia familiare la scuola ferrarese, non esiterà un momento a riconoscervi lo spirito severo e le forme larghe così differenti da quelle di Lorenzo Costa, a cui era attribuito, dico io, come pure il piegare caratteristico e fortemente mosso proprio del ferrarese Francesco Cossa. Nonostante quell'opera fu ed è attribuita dalle guide di Bologna e da tutti gli storici dell'arte a Lorenzo Costa, perché essi non erano appunto in grado, attenzione, di leggere il quadro stesso e di interpretare esattamente il documento scritto. Le scoperte più sensazionali hanno riguardato opere che prima dell'intervento di Morelli erano giudicate delle semplici copie. Lo studioso ha trattato l'argomento generale della copia in un punto saliente del discorso sul metodo sperimentale, quello relativo alla sua genealogia ed efficacia. Cito, da Leonardo e da Galileo fino a Volta e a Darwin il metodo sperimentale ha messo capo le più gloriose scoperte. Tuttavia per apprezzare un'opera d'arte un tal metodo non deve essere che un aiuto, essendo che la maggior parte dei dipinti della buon'epoca che ci sono rimasti, per non dire assolutamente tutti, siano stati soggetti a ristauri di ogni genere, nella maggior parte dei casi da mettersi nel numero di veri martiri. E chi si figura di ravvisare in quadrisi fatti la fisonomia dell'artista in realtà non vi vede se non una maschera abbuiata oppure una faccia del tutto sgraffiata e contraffatta? In tale stato di cose come è egli ancora possibile di riconoscere con certezza la mano del maestro in quella rovina? Come distinguere la creazione spontanea da una copia? Non è, se non mediante una rigorosa osservazione delle forme e della calligrafia del corpo umano, particolari al maestro che si riesce ad un risultato soddisfacente. Si intende che qui si tratta solo di veri artisti, cioè di quelli che pensano col proprio cervello, che hanno un modo particolare di concepire e di estrinsecarsi, che hanno insomma uno stile e non già gli imitatori, poiché questi non sono altro che degli zeri nella storia dell'arte, non altrimenti che nella storia della scienza. Curioso che Morelli associ gli artisti agli scienziati, è evidente che si considerasse tra quelli che pensano col proprio cervello, riservandosi un ruolo nella storia della scienza. Sul tema dei falsi, Morelli elabora un principio particolarmente acuto destinato a larghissima fortuna. Cito, quanto più il copista negli occhi del quale si rispecchia il quadro originale si avvicina al nostro tempo, cioè al nostro gusto e la nostra maniera di sentire, tanto più ci piacerà, voglio dire ai profani, la sua copia e di ciò potrei citarle molti esempi a taglio, fra gli altri la Madonna di Holbein e la Maddalena del Correggio nella galleria di Dresda. Gli esempi di Holbein e di Correggio sono troppo noti per essere ripercorsi qui, tuttavia il dialogo sulla Maddalena di Dresda merita almeno una menzione. Questo è il dipinto attribuito a Correggio, che è andato disperso durante la Seconda Guerra Mondiale e conservato appunto a Dresda. E' il classico scontro tra una persona tempata e colta, Lermoliev Morelli, e una giovane saccente rappresentata dalla signorina Von Blasewitz. I due stanno su posizioni incolciliabili. Il primo è persuaso che la Maddalena sia una copia volgare, come diciamo di fatto è stato dimostrato, non volgare ma diciamo certamente tarda, cioè di primo Seicento. La seconda che sia un capolavoro di Correggio, sulla base degli scritti di Raphael Manx e di Wilhelm von Schlegel. In uno dei punti comici della scena interviene il padre della signorina, invocando la rappresentazione del sonetto di Schlegel dedicato al quadro. Cito, ah, recitalielo Elisa, tu lo sai a memoria, disse il babbo fuori di sé, dallo stupore per l'erudizione di sua figlia. O no, è inutile predicare ai sordi, rispose lei prontamente. E adesso parla Lermoliev. Può essere, disse io, a quest'osservazione un po' pungente. Tutto ciò sarà possibile perché il gusto del Manx era proprio il gusto dei suoi tempi, ma quanto alle cognizioni degli estetici, principalmente dei romantici e neocattolici, mi permetta di dirle che non posso attribuire loro il minimo valore. Abbiamo ogni 50 anni un'altra estetica, è cosa di moda. In un argomento così moltiforme, quale quello di un quadro, l'estetico ci mette ogni roba che gli frulla per la testa e quelli che leggono coteste fole vanno in visibilio per le belle frasi e vedono nella loro fantasia la maddalena del sonetto e non mica quella del dipinto. La maggior parte degli uomini non si commuove e non farnetica per la realtà, ma per un'immagine della loro fantasia e questo dono divino dell'immaginativa ci fa vedere proprio quello che desideriamo di vedere. Ma quello che mi pare affatto impossibile, continuai dopo una pausa, è di considerare questa maddalena della galleria di Dresda per un'opera di un così gran maestro italiano, quale fu il Correggio. Inoltre, attenzione, il quadro, aggiunsi finalmente, è dipinto su rame e nessun pittore italiano prima della fine del secolo XVI si è mai servito di quel materiale per i suoi quadri. Morelli salva Mengs, non ha pietà per Schlegel, ma soprattutto avanza un'osservazione incontrovertibile, ovvero che non si conosce nessun dipinto eseguito su rame e risalente all'età di Correggio, decretandone definitivamente lo stato di coppia. Grazie al metodo sperimentale è più facile stabilire se un'opera d'arte è originale. Secondo Morelli, uno scolaro o un imitatore non copia certe singolarità come le forme delle unghie, delle orecchie, ecc. In questo modo riabilita una serie di testimonianze figurative fino ad allora considerate borderline. Per i casi più difficili e delicati sente la necessità di mettere in campo una complessa tastiera di verifiche che riguardano lo stato di conservazione, la loro menzione nelle fonti, la dinamica che ne giustifica l'esistenza all'interno della storia del gusto. La scintilla iniziale scatta di fronte all'originale. Solo successivamente Morelli mette in atto tutti i controlli necessarli per snocciolarli in una narrazione convincente. Qui vi mostro la fotografia più antica che si conosce della Venere di Dresda che, diciamo, è l'ultimo episodio che commentiamo. Anche nel caso della Venere di Dresda è andata così. A mio proprio conforto, dice Morelli, posso farmi la testimonianza di aver sentito e veduto in questo incantevole quadro il genio e la mano di Giorgione prima di aver saputo che era già notato per opera sua nel catalogo dell'Anonimo del Morelli. L'Anonimo del Morelli, sapete, è questo testo che pubblica Jacopo Morelli e perciò prende il nome di Anonimo del Morelli, ma noi oggi sappiamo essere un testo di Marcantonio Michiel, un umanista e collezionista e l'archetipo, diciamo, del conoscitore vissuto all'inizio del Cinquecento. È una sorta di confessione che lo studioso antepone alla dimostrazione dell'esperimento. L'accertamento inizia dall'esame dello Stato conservativo. Cito, l'occhio di pochi intelligenti si sentì attratto dallo splendore che irragia anche attraverso il velo onde il restauratore ha coperto questa mirabile figura di Venere, la più bella del mondo. Procede con l'individuazione della fonte dell'Anonimo Morelliano, alias Marcantonio Michiel, che la cita nel 1525 presso Casa Marcello a Venezia. Venere nuda, dice Michiel, che dorme in un paese con Cupidine fu de mano a Dezzorzo da Castelfranco, ma lo paese e Cupidine furono finiti da Tiziano. Morelli aggiunge anche la menzione fatta da Ridolfi, che ritocca la descrizione con un cupido con augellino in mano. Infine trova nel recente catalogo della Galleria di Dresda di Julius Hübner la prova maestra, ovvero la notizia che il cupido non più visibile allora si trovava ai piedi della Venere, essendo stato mascherato dal restauratore Martin Schirmer nel 1843, a causa delle condizioni troppo compromesse in cui era stato trovato. All'epoca della scoperta, la Venere di Giorgione era creduta una copia, forse dipinta da Sassoferrato, e con questa attribuzione dubbiosa era stata classificata anche da Cavalcaselle e Crow.